Ciao da Svideos, siamo sul bellissimo Life is Strange Before the Storm Ciao ragazzi, nella scorsa puntata Rachel e Chloe erano al Parco Belvedere dove hanno fatto questo gioco, dove immaginavano buffamente cosa potesse dire la gente mentre la inquadravano con questo visore e a un certo punto, erano lì che si divertivano, a un certo punto Rachel è diventata più ombrosa poi gli ha chiesto di rubare una bottiglia di vino agli escursionisti che c'erano ma ora vediamo che stiamo camminando sulle rotagne del treno e vediamo un po' Wow, ehi guarda Cosa? Ah, si è arrivati la discarica Eh, questa ce la ricordiamo bene Oh, fantastico, una montagna di spazzatura Esatto, una bellissima montagna di spazzatura Esploriamola Divertiti Chloe, io vado a sedermi Rachel si è fatta così seria da quando siamo andate via dal parco Cosa c'è che non va? Confrontala Confrontala Lasciala stare Confrontala Ho sentito a dire che gli attori sono un po' lunatici, però Rachel, wow Non è quello, ho solo bisogno di un po' di spazio, è un problema per te Ok Anzi no, credevo stissimo passando una bella giornata insieme Perché all'improvviso ti comporti così? Non mi comporto in nessun modo, voglio solo stare un po' da sola Capisco Ah, capisco, non deve essere facile avermi intorno, non sono l'amicona ideale Non gira tutto intorno a te, Chloe Non ho detto questo, solo ho detto che ti capisco No, non è così Oh, 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 oh Non so cosa stia succedendo a Rachel, ma pare le piace spaccare le cose Quando è arrabbiata, posso sfruttarlo a mio favore Eh, faremo il lavoro di spaccare le bottiglie Bingo Dai, la mazza a Rachel, fai uno spettacolino per Rachel Spettacolino Ehi, guardami Di solito non bevo birra, ma se proprio devo preferisco farlo di fianco a un vecchio eccesso Fuori campo Me la passi? Certo Ti avevo chiesto di lasciarmi in pace Mi stai prendendo? So che sei la reginetta della scuola con il papino procuratore distruttuale Voti alti e Miss Perfettina Vittoria Chase che ti lecca il morbidetto culetto Però va a fare Capito, me ne vado, ci si vede Chloe Non puoi andartene così, ah no? Rachel, aspetta, Rachel, non andare Perché no? Perché per una volta non voglio rovinare tutto come faccio di solito nella mia vita E cosa sarebbe questo tutto? Un'amicizia? Qualcosa di più? Qualcosa di più? Vuoi proprio farmelo dire? Che cosa? Lo sai, è come un'amicizia Ma di più Lo so, è strano, eh? È solo che non passavo una giornata così bella da quando Da quando è morto papà E quando poco fa stavo per rovinare tutto come faccio sempre Ho capito che tra noi c'è qualcosa di speciale Di qualcosa, per favore Chloe, mi spiace, mi spiace davvero tanto Ma non posso Vorrei, ma non posso Perchè no? Perché non posso So che non è giusto, ma è così No Ciao Chloe Cidenti Spacca tutto adesso Colpisci Colpiamo il manichino Sai che fa Se però non riesci a staccarlo agli occhi di dosso Conosco qualcun altro così Colpisci Macchina fotografica Non ho mai capito la tua ossessione per la fotografia Max Hai scattato migliaia di foto di noi due Ma nessuno mostrava che mi avresti abbandonata Quando avevo più bisogno di te F*** cameras Se vuoi distruggere una famiglia di portare strumenti adatti Cavolo Dad Papa Papa La macchina dell'incidente La macchina dell'incidente Korpisci Korpisci colpich carabolo perché piangi tesoro fa sempre i sogni con il padre perché non sei reale ah no che sta succedendo guarda manichino sono stata io tesoro guarda il lato positivo e qual è? oggi ti sei fatta una nuova amica c'è la bottiglia di vino non sono ubriaca è stata proprio una gran bella litigata si potrebbe quasi dire un litigio tra innamorati per poco non ti saltava il collo e a te cosa importa? scusa tesoro forse mi sto impicciando un po' troppo il passato è un prologo eccetera a volte però le persone hanno bisogno di te regge anche se non vogliono ammetterlo e mamma mia allora ragazzi per il momento chiudiamo qua ci vediamo la prossima volta con la puntata che penso sarà la puntata finale e niente un sacco di emozioni per questa puntata travolgente forte soprattutto le sequenze in fondo penso che lo penserete anche voi insomma proprio carica di tensione emotiva incredibile eccezionale questo gioco ciao da Svideo